Le fiale arriveranno domani ma le prenotazioni per il nuovo vaccino anti-covid Novavax sono già state aperte nel portale dell'azienda sanitaria trevigiana e da stamattina al tardo pomeriggio sono 98 le persone che hanno prenotato la vaccinazione. Questo vaccino viene dato ai maggiori 18 anni, quindi sopra i 18 anni, che non sono vaccinati, non sono mai stati vaccinati, quindi questo è riservato solo a loro. Il nuovo vaccino di Novavax si fonda su una modalità d'azione diversa rispetto a quella di Pfizer e Moderna a base di mRNA e di AstraZeneca e Johnson e Johnson a vettore virale. È infatti un vaccino definito a proteine ricombinanti, contiene la proteina Spike che si trova sulla superficie del virus SARS-CoV-2. La proteina prodotta in laboratorio e contenuta nel Novavax consente al sistema immunitario della persona vaccinata di riconoscere il virus ed attivarsi per combatterlo. Proprio per questa diversa composizione è definito il vaccino che piace ai Novavax. L'auspicio dell'azienda sanitaria è quindi di raggiungere un alto numero di persone non ancora vaccinate. Circa 12.000, 11.700, ecco sì, assolutamente sì. Noi ci auguriamo che almeno la metà di questi possa aderire alla vaccinazione.